In contatto telefonico con il direttore Antonio Marino della BCC di Aquara per l'aggiornamento settimanale ai telespettatori e quindi con l'intervista. Questa settimana, direttore, la riforma del credito cooperativo porta la BCC di Aquara a Milano per suggellare l'adesione con il gruppo bancario Cassa Centrale e Banca del Credito Cooperativo Italiano. Siamo stati a Milano perché noi facciamo parte del gruppo bancario di Cassa Centrale. Voi sapete che per origine le banche di credito cooperativo, tutte le 350 banche di credito cooperativo presenti in Italia, dovevano aderire ad un gruppo bancario. Noi abbiamo aderito a questo di Trento, all'Icrea, ed è un gruppo alternativo, un gruppo che nasce su presposti diversi dall'andamento del passato e quindi siamo andati a Milano perché il giorno 31 di marzo la Cassa Centrale ha presentato il progetto a tutte le banche aderenti, c'erano oltre 700 persone al Palazzo del Ghiaccio e lì a Milano e poi ha detto ufficialmente che abbiamo raggiunto il miliardo di capitale che serviva per costituire il gruppo bancario, perché per legge bisognava raggiungere un capitale di un miliardo, quindi tutte le banche hanno sottoscritto un aumento di capitale a Cassa Centrale, quindi abbiamo raggiunto un miliardo e così il gruppo adesso può nascere. Quante BCC della campagna hanno aderito all'iniziativa? Allora, in Italia siamo 101, però ce ne sono un'altra ventina che ancora devono decidere, ma non è importante il numero, è importante perché aderire ad un gruppo bancario non è come comprare il biglietto del cinema, insomma, no? Il problema è quello che tu pensi di aspettarti dal gruppo, la qualità che pensi di trovare là, poi abbiamo aderito per questo, non per il numero, perché non è la quantità che crea qualità, semmai è il contrario. Allora, noi delle BCC campane che attualmente mi pare che siano rimaste in 15 dopo le recenti fuzioni, solo tre hanno aderito a quella del Trentino, che sarebbe Aguara, Montepruvo di Roscigno e Flumeri, che sono tre banche notoriamente solide, poi andremo a vedere i bilanci al 31 dicembre del 2016, così vedremo poi delle varie banche chi sta meglio e chi sta peggio, ma il problema non è questo, noi abbiamo aderito al Trentino perché il Trentino ha una tradizione culturale della cooperazione che è di gran lunga superiore, e poi perché noi da sempre abbiamo spinto perché si facessero almeno due gruppi bancari, perché la sana concorrenza portava necessariamente ad un miglioramento della qualità dei servizi che la capogruppo deve dare alle banche aderenti. Quindi in estrema sintesi due gruppi significa maggiori opportunità anche per la clientela, perché migliore saranno i servizi offerti, migliore è la percezione della banca da parte della clientela.